Sono circa 13 con questa, sono un segnale importante non solo perché è il colore che richiama evidentemente ma perché poi c'è questa targa qua sotto che vedremo dove c'è un numero che si può chiamare 15-22 che si può chiamare in caso di bisogno, quindi oltre che un simbolo diventano anche proprio un messaggio e in alcuni casi anche un ancora di aiuto per chi ne ha bisogno, quindi speriamo di farne ancora tanti anni Prima di inaugurare volevo ricordare che ce ne sarà un'altra che verrà inaugurata al pacco pepino impastato qua dietro quella di pepino impastato nasce da una richiesta, io non sono un oratore quindi mi trovo in difficoltà da rosario mentre questa nasce da una richiesta di una signora che speravo che ci fosse ma non la vedo Ucilla Minesi che abita qui a Legnanese ha fatto questa richiesta alla consulta dove noi abbiamo preso in carico portata questa richiesta all'amministrazione, anzi all'interno del comitato della festa e la quale l'ha subito accettata per il promulso Ecco io vorrei dire una cosa, che l'amministrazione metta tante 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 tantine rosse a ricordare che qua ci si può sedere anche una donna che ha bisogno d'aiuto grazie Grazie a tutti